Ciao cari amici del gruppo, buonasera, questa è una diretta dedicata soltanto a questo gruppo e vi saluto caldamente e come annunciate, come scelto da voi tramite sondaggio, sto iniziando un breve corso che parla di come trovare la missione nella vita. Ovviamente questo è un corso che si fa attraverso questi video gratuiti, però siccome ci sono già tante risorse che riguardano la missione nella vita anche sul sito, su Fedros, vi darò anche dei riferimenti per andare a approfondire, vi guiderò un pochino nel percorso di approfondimento se magari non avete ancora avuto modo di guardare tutto. Innanzitutto quindi benvenuti e dopodiché cominciamo, cominciamo dicendo che cos'è la missione nella vita. La missione nella vita è da non confondere con il progetto di vita che solitamente viene associato al lavoro, all'attività o a un incarico particolare. Perché? Perché quando parliamo di missione nella vita intendiamo soprattutto la missione che ha stabilito l'anima prima di venire, di incarnarsi in questo corpo e di venire su questa terra. Quindi diciamo che è una missione evolutiva, un percorso evolutivo dell'anima che noi ovviamente sia volenti sia nolenti siamo costretti in qualche modo ad adempiere. Nolenti, chi è che è nolente, che non lo vuole fare? Potrebbe essere l'ego, nel senso che è quella parte di noi che è regolata dalla mente, che primariamente sente i bisogni e le esigenze del corpo fisico, della volontà e che magari non si ricorda che c'è una parte più alta, una parte che ha una vita più lunga, che va oltre questa vita e che è quella che regola tutto quanto il nostro percorso. Quando appunto ci si dimentica questo, magari si pensa di più al progetto di vita. Il progetto di vita è quale lavoro voglio fare, con chi mi sposo, se mi sposo, se non mi sposo, se faccio figli, se non faccio figli. E questo ovviamente è un livello che riguarda il progetto di vita. Quando parlo di missione invece parlo di qualcosa di più alto quindi, che non ha un'indicazione precisa, una forma di materializzazione precisa, si può materializzare in vari modi, però è soprattutto un'indicazione di tipo, diciamo, energetico che può poi essere sviluppato dalla nostra volontà e dal nostro libero arbitrio nel modo che riteniamo ci piaccia di più o ci capita di fare. Quando dico ci capita non vuol dire che c'è qualcosa di esterno che ce lo fa fare, ma vuol dire che magari stiamo seguendo semplicemente delle funzioni subconsce, delle regolamentazioni interiori che ci fanno agire in un certo modo, senza quasi che noi ce ne rendiamo conto, o perlomeno senza consapevolezza di averle scelte o decise. Quindi, ovviamente il primo video è un po' teorico. Come facciamo per individuare questo percorso di vita? E innanzitutto un po' meglio che cos'è quindi? È un percorso energetico, diciamo, cioè è un apprendimento che deve portarci ad emanare più luce, cioè a essere più luminosi. L'obiettivo dell'anima è quella di integrare sempre di più eventi, situazioni, energie in modo da crescere in luminosità. E questo significa che abbiamo una direzione in questo senso, ma non è una direzione, come dicevo, fattiva. Non è farò il pompiere, oppure il medico, oppure l'avvocato. È qualcosa di diverso. E in particolare, io utilizzo come strumento per individuarla, come sapete, l'astrologia e l'astrosofia. Quindi quando noi lo leggiamo attraverso l'astrologia e l'astrosofia, andiamo ad avere delle indicazioni molto precise andando a guardare il percorso dei nodi, dei nodi lunari. Siccome non tutti sanno che cosa sono i nodi lunari, poi vi metterò comunque dei riferimenti qui sotto per andare a leggere qualcosa. E anche dentro a questi articoli che ho già scritto, quindi sono già disponibili sul sito, trovate anche un form di iscrizione alla newsletter dove compilandolo e mettendo i vostri dati di nascita, mi raccomando, eventualmente indicate anche l'ora, anche se non è precisa. Potete anche scrivere qualche nota, non sono sicura, tra le 9 e le 10, potete dire anche delle cose così. e soprattutto il luogo e ora di nascita e data di nascita completa, che vuol dire anche l'anno, perché alle volte ci arrivano delle richieste solo col giorno e il mese. E quando noi riceviamo questa iscrizione, nel giro di qualche giorno, calcolate un massimo di 7 giorni a seconda della mole di lavoro, rispondiamo facendo il tema natale e andando a verificare la posizione di questi nodi e dandovi dei link dove andare poi a interpretarli. Quindi se volete continuare questo corso, vi chiedo magari di fare questo, in modo che la prossima volta potremo entrare un po' più nel dettaglio dell'interpretazione di qualcosa di cui voi siete a conoscenza, cioè dovete sapere perlomeno in quale settore o casa del tema astrologico li avete e in quali segno. Detto questo, dopo questo video scriverò sotto i link, quindi potrete curiosare, ritorniamo un attimo al concetto, perché è molto importante che capiamo il concetto. Nel momento in cui dico energia, sembra un tema molto vago, ma in realtà questo percorso è poi condizionante di tutto quello che noi facciamo. E quindi cosa succede? Che se noi cerchiamo, anche nell'ambito di un livello più terrestre, diciamo, un lavoro, un'occupazione, che non è nell'onda di quella crescita energetica, in quella direzione indicata, nel caso specifico dai nodi lunari, troveremo delle grandi difficoltà e magari ci ritroveremo a soffrire per aver scelto una cosa in cui non stiamo bene. Il fatto di non stare bene nella vita o di avere delle situazioni che sembrano mettersi contro di noi, in realtà è dovuto al fatto che la nostra anima ci sta cercando di guidare nella direzione giusta. E quando noi prendiamo delle direzioni che non sono compatibili con quella che è la nostra missione energetica, alla fine ci crea degli ostacoli e fa sì che o con gioia o con sofferenza noi cambiamo direzione. Per questo che si dice ascoltiamo i segnali dell'anima, perché l'anima ci fa capire quando siamo nella direzione giusta oppure siamo nella direzione sbagliata. Quindi se avete voglia di capire di più questi concetti, se avete voglia di entrare un po' più nel vivo anche della interpretazione personale, di rendere un pochino più, diciamo, utile per la vostra vita direttamente e meno teorico questo discorso, vi invito appunto a trovarli, potete anche far da soli l'esercizio andando su astro.com e creando il vostro tema natale con i vostri dati e poi andando a individuare quei due simboli di cui appunto spiego e parlo più estesamente negli articoli che vi indicherò. A quel punto lì potremo durante questi video in futuro rispondere a domande, entrare un po' più nel vivo delle vostre situazioni personali e interpretative, fare in modo che non sia solo un lavoro, diciamo, teorico, ma che ciascuno di voi possa avere anche qualche riscontro, qualche idea di interpretazione personale in modo da poterci meditare su. La mia idea è, se la cosa vi piacerà, è quella poi di passare anche un po' a dei piccoli esercizi che vi aiutano a chiarire sempre di più questo concetto e ripeto che poi, a parte il primo momento in cui tutto sembra un pochino vago perché si parla di energia, di cose un po' generiche, anche con questo processo di autoanalisi che spero di potervi accompagnare a fare, arriverete anche a definire con chiarezza o con maggior chiarezza anche delle situazioni più pratiche tipo la scelta del lavoro giusto, la scelta del compagno oppure del non avere un compagno o una compagna e di stare un po' da soli, cioè capire dove ci sta spingendo l'anima, quali sono le cose, le situazioni, le esperienze che sono favorite perché ci fanno crescere e che quindi in qualche modo non possiamo evitare di fare ma è meglio come diceva Jung raggiungere il nostro destino, seguire il nostro destino, lasciarci guidare verso il nostro destino ma farlo con gioia e con consapevolezza. Bene, quindi per stasera ci fermiamo qui, vi lascerò alcuni riferimenti e ci vediamo alla prossima settimana sempre a quest'ora per andare un passino oltre. Ciao a tutti!